Che dolce ti offre una prelibata sorpresa al cioccolato! Questa deliziosa crostata di Oreo ha una ricetta base, semplice e facile e viene farcita in tre modi diversi. La crostata banana e caramello, la crostata s'mores e la crostata cioccolato bianco e fragola. Tutte e tre offrono un'esperienza culinaria alternativa. È una crostata dal bel aspetto. Decorala con fragole fresche, salsa al caramello, banane e mini marshmallow. Questo dolce è davvero delizioso come sembra. Quindi, iniziamo! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!